Come aggiungo gli studenti con un file CSV? Quando create una classe virtuale, potete aggiungere gli studenti attraverso l'importazione di un elenco in formato CSV. Come possiamo creare un file CSV? Aprite Excel e create un nuovo foglio di calcolo. Inserite, nelle prime tre colonne, e-mail, nome e cognome degli studenti. Uno per ciascuna riga del foglio. Salvate il file nel formato CSV. Se lavorate su PC, scegliete il formato CSV Windows. Se lavorate su Mac, scegliete Valori separati da virgola, Windows. In alternativa a Excel, potete usare un editor di testo. Creare un nuovo documento e inserire, riga per riga, nome, cognome ed e-mail degli studenti, con i valori separati da punto e virgola. Salvate il file in formato testo con estensione CSV. Una volta creato il file, importatelo attraverso la funzione Aggiungi studenti tramite file CSV. L'elenco degli studenti comparirà nella tabella Studenti. Cliccate su Conferma per rendere operativo l'inserimento. Gli studenti riceveranno una e-mail di conferma. Buon lavoro! Zanichelli. Idee per insegnare. Idee per imparare.